C'è anche un'altra vicenda che lei tiene in considerazione, ovvero quella della mancata attribuzione di un riconoscimento a Iano Battaglia, storico Presidente dell'AECS, che avrebbe secondo lei meritato una strada, un'intitolazione, un'annotoponomastica. Allora, da un momento che l'amministrazione comunale torna in vita e quindi è chiaro che può tornare a occuparsi di questa vicenda. Vorrei ricordare all'amministrazione comunale che già nel 2016 è stato stabilito di intitolare l'ultimo rotatore della strada di Santa Panaglia, quindi quella dopo il tribunale, a Iano Battaglia. In quell'occasione c'è stato un intervento da parte della prefettura che ha detto presto poco questo, va bene, continuate ad operare senza tenere conto dei dieci anni che invece devono passare dalla morte del soggetto a cui viene intitolato la strada. Questa è l'ultima volta che l'ho fatto e quindi evidentemente l'amministrazione comunale avrebbe già potuto intitolare e quindi mettere la targa perché si tratta soltanto di mettere la targa per ricordare Iano Battaglia, storico esponente dello sport siracusano, storico esponente del partito socialista, grande vice sindaco della città di Siracusa, presidente dell'istituto autonomo case popolare e l'ho fatto in maniera veramente significativa, sia ancora oggi l'istituto autonomo case popolare di Siracusa, è l'unico inattivo della Sicilia. Non si capisce il motivo per il quale l'amministrazione comunale a chi è morto ad esempio nel 2016 ha già dedicato una strada e ha già inaugurato la strada, fra altre cose personalità di straordinario valore scientifico, quello a cui è stata intitolata la strada, però i dieci anni o valgono per tutti o non vale per nessuno e di conseguenza io rinnovo l'appello all'amministrazione comunale a essere e qua a evitare che la gente possa pensare che anche nell'intitolare una strada ci vuole lo sponsor politico, perché se poi uno vede che nel tagliare il nastro, nel dedicare una strada a chi è stato diciamo rapito alla vita nel 2016 ci sono alcuni soggetti politici, poi il dubbio e il sospetto che ci avvenga solo ed esclusivamente per aiutino della politica c'è. E quindi togliamo immediatamente questo dubbio ai siracusani e ai familiari di Anobattaglia e io invito l'amministrazione comunale, dal momento che lo può fare, a rispettare una decisione che fra altre cose la prefettura ha preso, sia dedicata finalmente una strada a Anobattaglia, la rotatoria ripeto è già dedicata, sia apposta solo alla rapida.